Ci sono certi geni in giro che ti insegnano a fare i primi step dell'escalation fisica dandole il 5 oppure il pugno, praticamente un po' come potrebbe fare, non lo so, un rapper americano. Quindi vediamo cosa questi scemi ti insegnano e poi andiamo anche a vedere come evitarlo. La tecnica che ti voglio insegnare in buona sostanza funziona così ed è basata su un trick psicologico. Io ti do valore e poi in realtà ti chiedo qualcosa in cambio nel momento in cui ti ho dato validazione con un patto delle tue emozioni, dandoti valore e quindi ti chiedo fondamentalmente obbedienza in quello che è il mio primo tentativo di escalation fisica. Detta in parole povere, stai fregando la ragazza a fare quello che tu vuoi. Quindi stiamo avendo una conversazione e io le chiederei qualcosa del tipo per esempio quindi cosa ti piace fare, manda, nel tempo libero? Mi piace ascoltare musica rock. No dai, grande, lo faccio anch'io, dammi il 5. Ecco, ora, sì questo è molto probabilmente quello che in realtà succede, soprattutto se la ragazza si sente di alto valore in realtà, ma facciamo anche finta che la ragazza ti veda più di alto valore di lei, quindi lei sia disposta a investire in questa cosa con te. Praticamente il discorso è ti do valore, infatti non so se hai notato, butto anche il mio pitch vocale verso l'alto. No, grande, l'ascolto anch'io. Quindi ora ci andiamo nel dettaglio, ma sto cercando di portare la ragazza su un picco di validazione per poi portarla a fare questo investimento nel momento in cui mi dai 5 a tranne la mia realtà è fare un primo step di escalation fisica, dove c'è un primo, se così lo vuoi considerare, tocco fisico. Se tocco fisico fra un uomo e una donna possiamo considerarlo e potrebbe essere questo, oppure potrebbe essere il pugno. Vieni Amanda, so che non ce la puoi fare, ma... Quindi, detta in parole povere, se lo vedresti mai George Clooney o chi per lui ha un uomo di alto valore è scalare fisicamente su una donna così? In buona sostanza, no. Quindi quello che tu vuoi fare è smetterla di scimmiottare imbecilli che ti spiegano cose che in realtà ti fanno passare come di basso valore e iniziare a fare un'escalation fisica che ti pone subito del più alto valore possibile. Stop! Non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.